La parola allena che ascolteremo con il dovuto silenzio e rispetto. Benissimo. Stavo meglio l'altro giorno, devo dire. Mi sentivo più grintosa, un po' più aggressiva. Oggi mi sento mite. È un difetto? Ci fa male essere mite? No, perché l'altro giorno avrei rimproverato e cazzeato tutti quelli che ora sono in giro. Oggi invece, siccome mi sento mite, dico se non sono qui, ci stiamo guadagnando noi, perché gli assenti non meritano di far parte del gruppo. Partiamo di qua. E allora? E allora? Sì, è proprio l'elogio della mitezza. Mi sento mite. E allora? Volevo rompere il ghiaccio, volevo fare un po' di show. Me l'ha insegnato Scrima, veramente? Lo show? Lo show? Vi sono grata. I grazie si sono veramente ripetuti. Sono io che sono grata a voi perché avete garantito a questo congresso non solo una ricchezza di contributi, ma la serietà che comunque, è inutile dire, conosciamo benissimo e che sappiamo benissimo è rappresentata essenzialmente dalla consistenza, la posso chiamare così, e dalla voglia che voi avete dentro di continuare a fare questo percorso e questo viaggio, perché siete arrivati qui con delle aspettative e avete ancora voglia di andare via, portandovi dietro un percorso che non si chiude, ma anzi ci mette nelle condizioni di pensare che sarà un percorso molto lungo, articolato, ma ricco di tanti tanti altri, altre opportunità. È stato ricco di presenze. Abbiamo avuto due sottosegretari e una ministra, anche a distanza. È stato carino sentire Giovanni di sotto. Io vi invito a ringraziare tutto lo staff di questa magnifica organizzazione che ha garantito dei collegamenti, delle difficoltà anche strutturali. Giovanni è già andato via, altrimenti lo avremmo salutato, così come tutti gli amici che si sono impegnati per garantire la memoria a questo congresso, con foto e altro. La ministra mi hanno raccontato, nonostante le difficoltà di collegamento, ha avuto la voglia di rimanere perfettamente lì, seduta al suo tavolo, per ascoltare in diretta la relazione. E quando il contatto è venuto un po' meno, cioè è cominciato ad essere più disturbato, ha proibito ai collaboratori di toglierle l'auricolare perché non voleva registrare il video messaggio, ma voleva continuare ad ascoltare in diretta per poter poi parlare in diretta. Di questo devo dire, le sono grata, ma è un apprezzamento che va a voi. Io sono qui, io sono il protempore che qualcuno ha raccontato qui, quindi io sono in rappresentanza vostra e il rispetto nei vostri confronti. Poi ci sono stati gli interventi delle sigle sindacali, del capodipartimento, di un politico, del segretario della CEI, che vi consiglio di rileggere perché è molto molto bello il suo messaggio, del vescovo di Castellaneta, che non vi abbiamo risparmiato, così come vi abbiamo risparmiato il messaggio di Michele Migliano, che voleva far venire l'assessore domani per portare il saluto. Quello ve lo abbiamo risparmiato. Forse non sono molto abituati ai congressi normali. Quando si comincia un congresso e poi quando si sa che si deve finire, loro forse facendolo a monte non sanno che c'è una procedura. Noi non dobbiamo prendere le brutte abitudini della politica, me lo suggeriva anche qualche amico dei professori ai quali abbiamo fatto riferimento. Penso che sia stata una bella sosta. Una sosta che è stata arricchita anche da contributi molto interessanti. Sono contributi esterni. Sono dei grandi osservatori anche delle nostre dinamiche. Non dobbiamo nemmeno immaginare che rimangano al nostro interno perché non starebbero bene. Forse non staremmo nemmeno bene a lungo nemmeno con noi perché apparteniamo comunque a mondi diversi. Però questi contributi ci hanno aiutato a cominciare il nostro ragionamento di oggi che spero possa continuare dopo gli esiti delle lezioni di domani pensare a quella porta aperta che si arricchisce di contributi. Quindi io ho finito la mia relazione dicendo ho lasciato una porta aperta. quella porta è stata varcata già da questo tipo di opportunità questo tipo di costruzione che abbiamo messo in campo. E quindi ora tocca a noi dobbiamo scegliere tocca a noi cominciare a inquadrare quale deve essere la visione strategica alla quale dobbiamo fare riferimento se vogliamo partire dalla conoscenza o vogliamo partire dalla voglia di avere più quel pensiero conviviale che ci ha detto la morta Ari stamattina. Allora, insieme qui cominciamo a discuterne. Io ho ascoltato molto i vostri interventi. Alcuni interventi sono ricchi di un'esperienza di base fatta del vissuto anche del disagio come è giusto che sia. E noi dobbiamo trovare la maniera per creare questa dinamica di relazione con il territorio con la RSU con la scuola attraverso l'acquisizione di tutti i bisogni. Però attenzione dobbiamo anche avere la capacità di cominciare ad edificare. Qualcuno sentivo che diceva prendiamo calcestruzzo, no? E quel calcestruzzo possiamo sicuramente prenderlo. possiamo anche prendere i mattoni rossi. Però dobbiamo anche avere la capacità di mettere i mattoncini sapendo che vogliamo costruire un edificio o vogliamo invece mettere su una cattedrale nel deserto. Perché se dobbiamo fare una distinzione tra un edificio abitabile per un nucleo familiare medio che ha bisogno dell'ordinario della regolarità ma che si deve accontentare anche dei servizi igienici dimensionati alle misure che abbiamo trovato nelle stanze non so se qualcuno ci ha fatto caso che sono servizi igienici piccoli però servono sono sufficienti servono perché non bisogna avere un'idea di guardare al panfilo che passa ci serve la barchetta se serve per attraversare il guado e allora con quella mitezza che ci deve governare con quella umiltà che ci deve che dobbiamo rigenerare un po' all'interno di tutti noi dobbiamo provare in qualche modo a recuperare perché in ogni occasione durante i nostri incontri emergono due due livelli di discussione c'è il livello di discussione animato il livello di discussione a volte anche rivendicativo forte aggressivo e poi c'è il livello mite quello che magari ha meno spazio viene ascoltato meno perché meno aggressivo però è quello che ha la voglia di mettere quel mattoncino l'uno sopra l'altro per chiudere le quattro pareti cominciamo a costruire il lavoro c'è la ministra nel farmi un bel regalo ci ha convocato il 14 giugno per l'atto di indirizzo quindi ragazzi rimbocchiamo le mani il problema è che non lo ha fatto solo la ministra l'ha fatto anche la ministra Madia perché chiaramente se la ministra parte con l'atto di indirizzo di settore a monte c'è una decisione della funzione pubblica e a monte ancora c'è qualcuno che sta costruendo il percorso per andare a rinnovare i contratti mettendoci le risorse quelle risorse che devono essere individuate nell'ambito della legge di bilancio se ci sarà ci sono tutte le condizioni per aspettare la legge di bilancio ora secondo me tockerà a noi essere anche bravi pragmatici concreti inseguire non il panfilo o la cattedrale nel deserto ma guardare all'immediatezza la costruzione regole certe dice Elena regole certe contratto spendibile esigibile devono però sciogliere dei nodi uno i livelli le materie materie che nel nuovo comparto devono essere ancora identificate in un percorso di chiarezza che devo dire grazie alla maestria giuridica di Paolo Bonanno noi abbiamo già anticipato ringraziate Paolo per un lavoro che ha fatto e che io non vi ho presentato in apertura perché sapevo di darvelo in chiusura noi dobbiamo immaginare un atto di indirizzo da presentare alla funzione pubblica che la funzione pubblica costruirà da presentare all'Aran per avviare le procedure che abbia immediatamente identificato le materie comuni relazioni sindacali assenze congedi parentali permessi e poi l'area retributiva quella economica molto light perché giustamente come mi ce n'è di lavoro ragazzi quando cominceremo a lavorare nei gruppi non solo nazionali non solo nazionali ve lo dico veramente e continuo a dirlo perché sono convinta che non possono essere solo nazionali i gruppi devono partire da riflessioni dei territori così come il consiglio generale deve rappresentare i territori perché i territori hanno le condizioni per costruire le idee e devono essere riportate qui le idee dei territori e devono essere qui discusse negli organismi perché questa è la maniera per dire garantire che c'è una democrazia di rappresentanza altrimenti io non mi identifico con quello che il territorio fa tolgo al territorio uno spazio di democrazia e allora se cominciamo a vedere quali sono le materie comuni ci accorgiamo che con i cugini non abbiamo materie comuni in tutti gli istituti contrattuali quindi dobbiamo fare uno sforzo per fare un lavoro di sintesi ed entrare nelle nostre materie partendo dal pregresso ma certamente rinnovando continuamente quello che abbiamo già visto che non funziona ne possiamo immaginare di affidare una norma contrattuale alla magistratura perché si sta sostituendo l'applicazione contrattuale ed è una magistratura che continua a invadere anche con giudizi che a volte creano non pochi problemi continua a invadere ambiti che sono tutti nostri e ci crea problemi e ci continua a creare problemi vedete cosa succede con la questione delle graduatorie e dell'inserimento dei diplomati allora facciamo facciamo un ragionamento dobbiamo avere azioni forti qualcuno diceva azioni forti attenzione al taglio rivendicativo perché avete sentito la CGL cosa ha detto alla fine non è che possiamo stare sempre buoni andiamo a fare un po' casino non ve l'ha detto così ma a noi ha detto così stiamo da un anno senza andare in piazza così è stata l'affermazione ho detto vabbè cosa c'hai qualche problema andiamo in piazza se poi devo andare in piazza con i fantasmini se poi devo portarmi in piazza assoldando pensionati come di solito qualche categoria è abituata a fare noi non lo facciamo allora a noi tocca fare un percorso un percorso deve essere comune ho scherzato ma ho grande rispetto per il rapporto unitario che stiamo facendo perché merita rispetto perché c'è un lavoro unitario quindi mi dovete perdonare e lo faccio anche per alleggerire una relazione al termine di un lavoro di tre giorni noi abbiamo sicuramente un percorso molto importante il tavolo del 14 di giugno che la ministra ha convocato con all'ordine del giorno la sua presenza per l'avvio di un dialogo che traguardi i prossimi rinnovi contrattuali è il primo tavolo di concertazione a questo tavolo ora noi dobbiamo chiaramente portare le prime i primi elementi innanzitutto inquadrare le problematiche che vi dicevo in precedenza vedere con la confederazione quali sono gli elementi di riferimento vedere dove si vanno a trovare il miliardo e duecento milioni che serve per garantire l'impegno assunto già all'atto dell'accordo del 30 di novembre poi c'è tutta una partita su chi paga un aspetto fondamentale dell'accordo la defiscalizzazione che nel caso delle imprese sapete ha un costo a carico delle imprese vogliamo sapere per noi chi deve pagarle e dobbiamo vedere anche che tipo di defiscalizzazione su quale voci devono essere deve essere fatta e poi tutte le materie relative alla previdenza complementare e altre e al welfare che potrebbero rientrare come materie comuni questo di pari passo con tutta la decretazione secondaria che sulle deleghe abbiamo bisogno di recuperare in qualche modo lavorando ai fianchi io ho fatto l'esempio del cacciavite oggi vi dico lavorando ai fianchi perché abbiamo visto lo scadenzario il CSP sarà chiamato il presidente è già pronto è già sul piede di guerra abbiamo anche fornito buoni documenti presidente questa volta non ci può rimproverare bene grazie grazie presidente dovere e i documenti che noi abbiamo presentato che vi invito a fare oggetto di riflessione perché molti di voi ci hanno lavorato e sanno da dove partire chi non ha avuto il tempo ci riprovasse un po' perché è chiaro che abbiamo dei tempi contingentati però guardatele cominciate a individuare qualche elemento perché ne abbiamo bisogno perché il rapporto con gli enti locali dell'inclusione o dello 06 se lo regolamentiamo può essere garanzia per quanti hanno bisogno di avere certezza e sicurezza una scuola dell'infanzia che non può ancora vivere l'incubo dell'abbandono in un primo settore magari più verso il basso che verso l'altro l'abbiamo l'abbiamo discusso ampiamente lo abbiamo detto è ben scritto però la dinamica la preoccupazione di come costituire questi poli di come mettere in discussione anche l'assistenza di chi deve fare l'assistenza delle scussezioni primavera degli educatori negli anni ponte ci sono tante dinamiche che dobbiamo affrontare anche sapendo quali sono gli obiettivi che vogliamo portare a casa che sicuramente devono rassicurare il nostro personale devono rassicurare quel settore di scuola devono rassicurare anche un settore di scuole paritarie che veramente secondo me l'Italia dovrebbe attenzionare noi rischiamo di affidare i nostri piccoli bambini nelle mani di soggetti loschi in franchising che arricchiscono anche organizzazioni un po' più vicine alla malavita organizzata che organizzazioni che offrono un servizio per la prima infanzia di questo dobbiamo parlare a livello regionale territoriale con le nostre confederazioni perché se non parliamo con i nostri cugini se non entriamo nel merito di quale percorso dobbiamo fare per evitare che si crei questo caos i finanziamenti che arrivano a questi settori che potenziano anche rapporti di lavoro un po' strani saranno per noi deleteri in termini di condizione oggettiva di struttura per la prima infanzia un elemento che ci deve anche permettere di discutere a lungo è quello del reclutamento io ho provato a lanciarvi delle sollecitazioni il reclutamento ha in questo momento due percorsi l'uno la parte della norma transitoria con tutta la sua evoluzione noi andremo l'anno prossimo ai primi elenchi regionali quest'anno ci sarà un percorso ibrido per gli elenchi compilati attraverso gli idonei e poi vedremo anche come questo percorso permetterà la copertura di tutte le assunzioni che in giro per l'Italia si tenterà di fare perché ci sono 23.000 posti vacanti per i pensionamenti e poi ci saranno anche l'aggiuntivo che è stato assegnato nella trasformazione dell'organico di fatto in diritto però il percorso successivo quello sul quale noi dobbiamo immediatamente cominciare a ragionare è il mercato dei titoli perché perché i CIFIU i crediti formativi universitari questi benedetti 24 crediti che voglio capire come dobbiamo alimentare attraverso le online la Romania la Bulgaria la Spagna o dobbiamo pretendere che le università finalmente inquadrino il settore scuola come un settore di investimento anche in quelle regioni dove sappiamo che la ricchezza prevede più di valutare l'ingegnere come un soggetto più bisognoso di attenzione se in tutta Italia non parte un percorso delle università che forse è l'unico che ci può garantire perché altrimenti sarà veramente un mercato del titolo e il risultato sarà tutta quella qualità alla quale abbiamo fatto riferimento non è possibile avere personale che entra con la sua anche buona laurea incapace però di conoscere qual è quella virtù che serve per entrare in una scuola noi dobbiamo insistere su questo aver avuto Luigina Mortari qui non è stato fatto solo perché ci piaceva parlare un po' di filosofia eh Luigina vi ha fatto intendere e chi non c'era che non ha potuto seguire se lo andasse a rivedere perché tanto è tutto registrato è tutto su youtube quindi andatevi a rivedere le cose che vi siete persi Luigina fa un ragionamento da docente di universitario che mette in condizioni i docenti di futuri di imparare dalla scuola in una reciprocità pensate che sia così difficile tentare di attivare le università d'Italia su questi fronti è impossibile ci vogliamo mettere in gioco un po' anche perché se domani dovessimo diventare interfederale voglio dire avremo anche un comune cappello e caspita almeno visto che ci dobbiamo prendere il carico del lavoro utilizziamolo al meglio sarei dell'idea sarei dell'idea che si facesse proprio un lavoro con i colleghi dell'università che si introducessero alcuni elementi di discussione e ancora qui con la confederazione perché è questo il livello che dobbiamo avere perché è lì che dobbiamo insistere e creare quel protagonismo del territorio che riesce a vincere una battaglia per incrementare l'avvicinamento del mondo della scuola attraverso questi settori avete visto che è andata via Rita era una presidente insostituibile non l'abbiamo sostituita perché è andata via Rita perché dopo quello che è avvenuto venerdì scorso dopo che con un blitz è stato approvato il decreto per le graduatorie di terza fascia l'intervento che dovevamo avere della ministra doveva essere cara ministra ci hai tradito perché questo abbiamo rischiato di fare perché noi non assolutamente avevamo detto che non si poteva cominciare con le graduatorie di terza fascia in questo periodo ma non per motivi di impegno sindacale attenzione perché noi non abbiamo mai rinunciato alle incontri mentre qualcuno è abbastanza impegnato e va in giro per il mondo anche quando ci sono le riunioni degli organismi noi non abbiamo sempre chi partecipa alle riunioni ma noi l'avevamo inserito in un elemento tecnico fondamentale il rinnovo delle graduatorie di prima fascia non avviene ora non avverrà e questo disallineamento produce non pochi problemi per le provenienze di province ancora le modifiche delle tabelle di dei nuove delle nuove classi di concorso approvate dal csp due settimane fa ancora non sono state oggetto di una discussione quindi immaginare venerdì e sentirsi dire che c'è una graduatoria e saranno pubblicate le graduatorie oggi venerdì l'altro scadenza 10 giugno venerdì l'altro le decisioni erano queste permettetemi datemi atto sono riuscita a farvele spostare almeno questo quindi però Rita domani avrà questo incontro è probabile che domani viene fuori la circolare Rita è andata col mandato che deve tenere lei ha detto occupo le stanze del ministerio occupa le stanze del ministerio arriviamo noi ho detto di avere almeno scadenza al 25 nell'aria sembra anche il 20 ma noi abbiamo chiesto scadenza al 25 graduatorie di terza fascia che sono pura e mera illusione per molti 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 è veramente impensabile hanno già mandato una nota dicendo che nelle segreterie saranno prorogati i contratti dal 30 giugno al 31 di agosto proprio per il sovraccarico che si aspettino che si aspettano arriverà per il rinnovo della terza fascia ma pensate che sia questa la soluzione io ho detto non mi sembra proprio non avete minimamente idea di che cosa può succedere ecco perché la dottoressa De Pasquale con la quale avevo discusso animatamente poi ha mantenuto il suo impegno a essere presente ma mi diceva sono in difficoltà perché è vero avevamo detto ed eravamo rimasti di intesa che non era possibile per quest'anno qual è stata la scelta le nuove classi di concorso quel qualcuno che ha bisogno di essere inserito perché prima non c'era e ora c'è e a fronte di un problema di 100 piangono 200.000 300.000 400.000 che devono quest'anno rifare un percorso in un'altra situazione di caos queste sono le contraddizioni quando noi abbiamo fatto quel ragionamento con voi sul fino all'avente diritto lo abbiamo fatto anche sapendo che c'era dietro l'angolo un provvedimento problematico come il rinnovo già da quest'anno sino all'avente diritto deve essere una norma di legge pare ci sia anche l'interesse dell'amministrazione però dobbiamo essere come diceva Monica Barbolini se non ricordo male essere capaci di spiegarlo bene perché attenzione i nostri precari non sempre comprendono il perché delle nostre scelte addirittura non lo comprendono nemmeno i colleghi quando abbiamo cercato di fargli capire che avevamo agevolato le procedure sulla mobilità garantendo loro le prime cinque scuole come titolarità avete avuto qualche grazie vi siete sentiti dire caspita sono fortunata qualcuno ha detto perché non dieci e se ne avessimo fatte dieci perché non quindici allora la dimensione del diritto acquisito dobbiamo perderla anche noi è una questione di linguaggio anche da parte nostra noi siamo abituati a dire fino a ieri ce l'avevo tu me lo togli oggi è un altro giorno la segretaria generale Anna Maria Furlan in un'ora con una ottima capacità di sintesi ci ha fatto capire in che mare di guai per usare un eufemismo ci troviamo la segretaria Furlan che ha inquadrato il problema partendo da lontano ma arrivando sotto casa ha raccontato come le contraddizioni e l'impoverimento culturale mentale e in alcuni casi io direi proprio cognitivo produce fattori negativi che paghiamo tutti come collettività allora anche il nostro linguaggio anche la nostra richiesta anche la nostra conquista deve diventare patrimonio di tutti attraverso il linguaggio semplificato quello che deve arrivare nell'immediatezza e che deve dare la sensazione non di facciata ma deve dare proprio la consistenza dell'obiettivo raggiunto quando andremo a mettere in campo una campagna perché non ho altro strumento per immaginare come far capire che noi siamo d'accordo che la nomina venga entro e non oltre tempi di pubblicazione dopodiché chi c'è c'è chi non c'è se ci sono le graduatorie si aspetta un anno e dobbiamo navigare su come vi devo dire su un tapirulan che va e viene sapendo che se si va verso il nord ci abbiamo le messe a disposizione se si sono trovati se qualche docente alla fine l'abbiamo recuperato quindi qualcuno dirà ma scusa se ho le graduatorie perché non deve entrare quello da graduatoria e dall'altra parte qualcuno dirà no 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 non stai fermo lì non ti muovere perché se mi togli questa possibilità ho finito di lavorare per tutta la mia vita e quindi noi non possiamo pensare un tapirulan che deve andare avanti e dietro che dobbiamo insieme governare e dobbiamo saper argomentare per dare spiegazioni alla nostra gente non perché dobbiamo sfuggire le responsabilità è difficile spiegarci con la nostra gente guardate che tra breve avremo il problema delle assegnazioni provvisorie non è che le abbiamo finita e le assegnazioni provvisorie si arrivano con la modalità che la ministra potrebbe impostare potrebbero essere assegnazioni provvisorie un po' più rigide applicative della norma e dei vincoli che la norma ha imposto e allora dovremo stare ancora una volta in quella condizione per rispondere chi ha diritto all'assegnazione provvisoria chi può partecipare all'assegnazione provvisoria con quali titoli si ricongiunge la famiglia con quali preferenze e quali precedenze e questo lo dobbiamo saper spiegare tutti perché non è che io posso andare come voglio andare e tornare a Pavia come voglio tornare a Milano come spero di poter andare a Brescia e voglio essere tranquilla quando vado a Brescia o a Bergamo o a Pavia perché qualcuno non mi deve venire a dire cara segretaria come ti sei permessa di firmare le assegnazioni provvisorie io voglio firmarlo quel contratto e devo essere anche tranquilla di poterlo dire a Napoli nella stessa maniera scegliendo la linea di coerenza che se insieme scegliamo e definiamo insieme ce la portiamo dietro come patrimonio comune è coerenza pensare che una madre di un bambino piccolo rientri a casa se c'è il posto sì penso di sì vedo Elena mi ha fatto sì dico sì perché me lo dice me lo suggerisce è possibile immaginare che ci siano deroghe alla possibilità di assegnazioni su posti senza titolo vi dico no siete d'accordo e se questo produce fattori che comunque hanno implicazioni sulle famiglie siamo nelle condizioni di cominciare a costruire percorsi di sussidiarietà lì dove si devono accogliere quelle famiglie con chi lo facciamo con la confederazione siete disposti a fare rete a trovare soluzioni Marco Bianchi mi dice sì alla Furlan me l'ha detto segnatelo l'ha detto lui è vero hai ragione e quindi noi dobbiamo costruire questa rete la dobbiamo costruire in una rete di capacità anche di individuare quali sono i limiti della norma e quali sono i limiti della contrattazione perché anche la contrattazione ha dei limiti a volte il limite della contrattazione sta di voler portare tutto fino in fondo nella negoziazione nell'interesse del bisogno del lavoratore e quella è la parte contrattuale la nostra veste sindacale è difficile che io possa dire a un sindacalista di periferia beh sai caro mio non lo fare perché la famiglia non sarebbe d'accordo ma qualcuno mi dice ma io ho l'iscritto con chi litigo con la famiglia dell'utenza o con l'iscritto e coniugarli questi fattori saranno molto molto delicati e molto molto problematici ma noi ci dobbiamo sforzare perché noi siamo l'organizzazione della virtù e non possiamo pensare di lavorare sugli incentivi probabilmente potremmo rischiare di perdere consenso se è giusto se facciamo una scelta giusta di carattere negoziale che dobbiamo sostenere dovunque io so che abbiamo fatto un grosso lavoro insieme lo abbiamo fatto anche perché ci conoscevamo da parecchio tempo abbiamo anche saputo fare un lavoro di affermando alcune alcuni principi alcune ragioni lo abbiamo fatto cedendo ognuno un pezzo e una parte di sé per darlo all'altro e lo abbiamo fatto con la consapevolezza riprendo ancora quello che diceva Elena che abbiamo ben chiaro prima l'organizzazione poi la persona oggi Anna Maria ha affrontato in modo molto onesto molto onesto con grande correttezza a differenza di altri una storia che lei ha voluto raccontare a voi che non era stato oggetto della discussione di nessun dibattito raramente nei congressi se ne è discusso nei congressi di scuola dove ci sono stata io ad esclusione di qualche realtà dove ci ha tenuto il segretario dell'USR a fare citazioni varie per il resto la nostra gente non aveva bisogno di discuterne perché era un capitolo che aveva già affrontato e discusso nei luoghi preposti però Anna Maria con grande intelligenza che le riconosco ha fatto un interessante passaggio distinguendo la nobiltà di alcuni di alcuni soggetti che in un frangente delicato si sono posti il problema di decidere diversamente da lei Anna Maria ha accettato che ci sia una decisione diversa da lei certo c'è stata la sofferenza non solo da parte di Anna Maria anche da parte mia perché è stata una sofferenza frutto di una discussione più volte ribadita anche con Anna Maria sul metodo però come penso sia stato molto chiaro anche dalle parole mie iniziali in relazione ma dalle parole che ho potuto pronunciare al Consiglio Generale del 18 di dicembre già e in seguito durante l'esecutivo in seguito in un altro Consiglio Generale noi non abbiamo non ci siamo mai espressi io non mi sono mai espressa nei confronti di un voto contro la segretaria generale Anna Maria Furnano nelle modalità che qualcuno ha voluto dare a quel voto ci poteva stare di tutto ma con grande ho detto equilibrio Anna Maria ha raccolto ha raccolto pienamente l'idea che la Cisle scuola non può essere se non prima Cisle poi scuola oggi però sulla base anche dell'invito fatto da Anna Maria noi dobbiamo ripercorrere perché si è interrotto un percorso perché che che se ne dica nei vostri territori il percorso si è spezzato perché Anna Maria ha parlato di motivi nobili ma perché Anna Maria è alto il livello di discussione quando poi si scende nella periferia bisogna per forza entrare nel brutti e buoni belli e cattivi e lì bisogna dare una dimensione di posizionamento allora con Anna Maria ci siamo chiariti ora voi entrate in tutte le vostre UST e in tutte le vostre USR e fate capire loro che se Anna Maria dice siate con la Cisle e la Cisle sarà con noi beh questo non è un percorso che si mette e si blatera si pratica abbiamo i problemi della formazione professionale in Sicilia voglio vedere il segretario generale della Sicilia in prima linea accanto a voi non voi da soli così come voglio vedere il segretario generale per le paritarie in Emilia Romagna così come ho apprezzato l'altissimo livello della Lombardia dell'USR e Lombardia e lo devo dire pubblicamente Ugo Ducci è stato l'unico segretario generale che ha parlato con grande qualità di scuola e glielo riconosco pubblicamente e questo significa qualità perché non ci può essere in un'organizzazione come la nostra la mancanza di dialettica non l'aberrazione delle stupidaggini di telefonate non telefonate quella è una narrazione che fa parte delle narrazioni virtuali noi non ci possiamo permettere questo lusso noi siamo altro noi dobbiamo uscire dai vecchi schemi perché se entriamo negli schemi della politica noi siamo come la politica e ci sovrasteranno perché la politica sarà sovrastata dalla dimensione anche mediatica quindi io mi sento di dirvi e ve lo dico con grande grande voglia di comunicarlo ma vorrei se potessi infilarmi in ognuno di voi per farvelo capire farvelo entrare nelle menti non siamo CIS scuola se non siamo CIS ma non siamo CIS se non siamo CIS scuola perché è reciproco il rapporto ci deve essere rispetto quel rispetto profondo per un'organizzazione sana abbiamo anche noi 730 abbiamo fatto scelte di ridimensionamento delle retribuzioni abbiamo una storia che segna questa capacità di parsimonia c'è un uomo che sta lì davanti ma ce ne sono tanti che sono usciti dall'organizzazione e che hanno mantenuto questa questo grande equilibrio non è possibile essere tacciati di chissà quali problematiche solo per macchiare noi non siamo da smacchiare noi siamo una casa trasparente come ha detto Mariano non abbiamo bisogno nemmeno di prodotti perché abbiamo iniziato questo percorso con quei prodotti sapete quando si pulisce bene un vetro con un prodotto indelebile alle macchie che fanno rimbarzare anche le goccioline noi lo abbiamo fatto alla radice non abbiamo bisogno di spolverare più niente chi si permette di buttare fango sull'organizzazione con comportamenti inadeguati sarà perseguito dagli organi gli organi preposti che voi andrete ad eleggere perché quelli sono i soggetti che devono guardare nelle casse e nelle liste di altesseramento e nelle attività che non si portano compimento secondo le regole comuni che ci siamo dati e i luoghi per i controlli siano da noi stessi perseguiti perché è giusto che non si faccia di una macchiolina la grande macchia su tutti dobbiamo avere tutti la possibilità a testa alta di dire non sono io responsabile ma non è nemmeno il territorio a 600 chilometri di distanza faremo un grande lavoro di formazione se ci sarà il sostegno nei nostri confronti anche per la gestione dell'amministrazione del tesseramento se ci sarà il sostegno a questa segreteria uscente che vi preannuncio intende ricandidarsi con grande umiltà con grande mitezza con grande voglia di dare a ognuno di voi quello che può e anche quello che non può anche il tempo che non ha più anche anche i limiti umani e personali sarà sempre assegnata al servizio lo dobbiamo fare però sapendo che insieme dobbiamo lavorare lo dobbiamo fare perché dobbiamo dare a questo viaggio dobbiamo dare una linea dobbiamo dare a questo viaggio anche una grande ricchezza io vorrei completare questo discorso con voi questo è il mio primo congresso è stato esaltante è stato ricco è stato importante è stato molto partecipato qualcuno va via con un bel paniere qualcuno intristito qualcuno insoddisfatto però non è finito allora ricominciamo domani ricominciamo domani e verifichiamo che cosa non ha funzionato ricominciamo domani per vedere quali sono le questioni che possiamo rimediare anche al metodo che abbiamo usato ricominciamo domani sapendo che dobbiamo investire sui giovani sui meno giovani sulla nuova dirigenza sulla formazione dobbiamo investire anche sulle nostre capacità di adattamento e di cambiamento sui nostri linguaggi sulla nostra voglia di modificare anche comportamenti che sono storici nella metafora del viaggio e riprendendo l'invito di luigina mi piace riprendere la poesia di cavafis su itaca quando ti metti in viaggio per itaca devi augurarti che la strada sia lunga fertile in avventure in esperienze alla fine dice solo alla fine avrai capito ciò che itica vuol significare senza di lei non ti saresti mosso la meta per molti aspetti è il proprio cammino il risultato a volte non dipende da noi ma da tante altre condizioni il nostro dovere è avere degli obiettivi chiari e idee forti e poi solo camminare in quella direzione io vorrei farlo con tutti voi e siccome ho degli amici che hanno voglia sempre di scherzare però in questa occasione lo scherzo è forse più più giusto di quanto potesse immaginare Gianni Manuzio che mi rompe l'anima sempre perché è giuventino mi ha giunto agli appunti ai miei appunti una frase un passaggio facciamolo strano facciamolo strano grazie 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 grazie